Come società di mutuo soccorso avete organizzato questo documentario proiettato qui a Lerici, perché? Intanto è stata un'opportunità perché cinque anni fa quando il regista famoso Maurizio Sciarra iniziò a girare gli esterni Genova, Lerici, Croazia, Trieste, questo documentario con anche documenti originali di sottoluce, noi appunto siamo stati, Lerici è stato proprio per il comandante Francesco Tarabotto, coinvolto. Quindi noi siamo felici anche perché Tarabotto era socio della società marittima di mutuo soccorso, la quinta insenza della marineria Ligure e Lericina e quindi noi ci sembrava giusto essere una delle prime località dove questo documentario appena uscito fosse appunto proiettato. Oggi proiezione del documentario OREX, tutto partì quando lei era presidente dell'autorità portuale a Genova. Sì, con questa grande mostra che aveva un grande successo e che rilanciò l'immagine del Rex raccogliendo quello che è rimasto in giro per il mondo di questo straordinario trasatlantico e rilanciando poi l'economia del mare. Il pretesto era quello, fare un'importante ricostruzione storica ma per ribadire quanto il settore navale della costruzione, è una storia interamente Ligure di una nave costruita a Sestri, a Genova, che è stata allestita nei vaccini di carinaggio di Genova con un comandante Lericino. Una bella storia che era giusto ricordare e che ha anticipato di fatto le crociere moderne con arredi, design e qualità straordinarie. Un documentario sul Rex, difficile è stato reperire tutta la documentazione? Era molto difficile trovare sia la documentazione ma soprattutto i testimoni perché ovviamente essendo una storia di tanto tempo fa rischiavamo di non avere testimoni di prima mano. Siamo riusciti a trovare l'ultimo sopravvissuto del primo viaggio del Rex che all'epoca dell'intervista aveva 99 anni, che è stato importante averlo. Che esperienza è stata realizzare questo documentario? È stato molto bello scoprire il mondo dei collezionisti, degli oggetti, delle navi che con le loro manie riescono a mantenere in vita il ricordo di una nave importante come questa. Il Rex diede lancio ai lavori liguri, a quelli legati al mare? Molte professioni si sono affinate proprio con il Rex. Il Rex ha avuto una vita breve, è stato sui mari pochi anni, però diciamo che doveva avere determinate qualità per salire a bordo di queste navi. Non a caso gran parte del personale era formato da persone della Liguria. Gli orchestrali erano liguri, i metri d'hotel erano liguri, i famosi baristi, barman che facevano i cocktail erano in gran parte di lerici, chiamati probabilmente da Tarabotto che era il comandante in capo e che conosceva perfettamente tutto il suo equipaggio. Che ruolo ebbe Tarabotto? Tarabotto riuscì a intuire che poteva avere la possibilità di vincere il Nastra Azzurro. In un momento in cui l'Italia era politicamente isolata, lui si giocò questa grande chance e rilanciò molto il ruolo dell'Italia nei mari grazie alla conquista del Nastra Azzurro.